Una partita importante per i padroni di casa che sono ancora fermi a quota 1 in classifica Soprattutto dopo Si avvicinano verso l'area di rigore avversaria Qui intanto è il cross di Zanchi che può sfoderare la sua progressione C'è largo Perry, Gaeta alza la testa, Gaeta pensa al tiro Alzo sulla ribattuta di Granata C'è però Capece sulla tre quarti, prova la conclusione Strozzata Diop in posizione regolare Il gol di Abu Diop al diciannovesimo minuto Tanto per Tirelli il tiro strozzato da parte di Zampa Mentre fischia Zucchetti con dei passi Tirelli che parte Intanto attacca Tirelli che riesce a girarsi il velo Poi Marchegiani prova a calciare Col destro troppo Tirelli Che può dare qualità alla manovra del Rieti Ghiebre pensa al tiro, lo effetto Ghiebre Pone Ghiebre Zanchi la porta col Mancino Sul di lui Caccetta Va sul destro allora e prova ad imbucare Zanchi per Tirelli Che svuca il tiro di Zanchi Bajocco poi Belek Pecorin che però non ha bisogno di intervenire perché spazza Gigli Che poi vorrebbe recuperare il pallone Attenzione ancora Diop su filo del fuorigioco Diop Era in posizione regolare La progressione di Perri è già in avanti Pallone in profondità per Thomas Alberti Addirittura Belek a ripiegare Al rimorchio c'è Mattia Il tiro! Che finisce sotto le gambe di Pecorin E gol di Mattia Mentre Capece va a battere il calcio d'angolo Cross sul secondo palo Questo è il quinto confronto fra Rieti e Paganese Rieti non ha mai perso contro la Paganese Intanto qui il tiro Se ne va bene Ghiebre doppio passo Entra in aria Ghiebre E' il gol del Rieti Che accorcia le distanze con il numero 11 Tirelli Aria affollatissima Quella della Paganese Con tanti uomini Tante maglie Mancino sul secondo palo di Tirelli Sponda aerea Zanchi C'era anche Pecorin a saltare Era però l'ultimo pallone giocabile della partita Finisce qui La Paganese Sbanca il